Allora oggi parliamo di una particolarità che capita quando tiriamo il coludo, perché ci prendiamo col naso, perché ci prendiamo nel naso. Molto spesso vedo gente col cerotto o col naso tutto sanguinante e molti mi chiedono ma com'è possibile non prendersi? Allora intanto se ci prendiamo vuol dire che non siamo allineati, forze di spinta e trazione non siamo allineati. Oppure il nostro rilascio non è morbido come dovrebbe essere, le dita non si rilassano all'istante e soprattutto perché non siamo allineati. Allora vediamo intanto un rilascio come dovrebbe effettivamente essere. Un bel ancoraggio, un bel bella trazione sui dorsali, trasferimento, mantenimento, mira, rilascio. Vediamolo un po'. Questo dovrebbe essere un buon rilascio se abbiamo fatto tutto, riguardiamoci i fondamentali, se abbiamo fatto tutto a dovere, spinta e trazione sono in allineamento, il rilascio è morbido, la robota ruoterà intorno al naso, non lo prenderà, è impossibile che lo possa prendere, perché ci ruota proprio intorno. Lo rivediamo. il naso non è stato toccato minimamente. Vediamo ancora una volta. Ricordiamoci i fondamentali, trazione, fuori la spalla, la spalla dell'arco viene estesa, fuori via la trazione, trossierimento, mantenimento, mira, vi lascio. Provate, se fate tutto bene non vi prendete.